Il ripristino dell'ascensore che da Piazza Duomo e viceversa conduce al terminal di Colle Maggio Lorenzo Donatali era notizia tesa all'Aquila. L'ascensore evita gli ultimi gradini del tunnel ed è cosa buona e giusta soprattutto per le persone con disabilità e mamme con carrozzine e passeggini a seguito. Un ripristino importante considerando che il mega parcheggio consente di poter parcheggiare comodamente e gratuitamente e raggiungere il centro in pochi minuti. In attesa dei parcheggi previsti dal piano comunale che si realizzeranno nei prossimi anni l'infrastruttura è molto importante e in estate molto utilizzata. L'ascensore dalle 5.45 sarà attivo sino alle 23 ma per il fine settimana dal giovedì alla domenica chiuderà a mezzanotte attivo da oggi. Ovviamente il prossimo step, quello più atteso dovrà essere il ripristino del tapirulan, quello sì potrà far compiare il salto di qualità alla struttura che il comune da tempo sta cercando di rilanciare. Ma il percorso non sarà immediato, ci sono solo mezzo milione di euro previsto dal masterplan e riattivare il tapirulan invece costerebbe molto di più come conferma il sindaco per Luigi Biondi. Per questo altro intervento abbiamo mezzo milione di euro dal masterplan ma rispetto alle previsioni fatte inizialmente ci siamo resi conto che la situazione è molto più grave di come immaginassimo perché quel tapirulano non è mai stato manutenuto e non ha mai fatto, chiamiamoli così, tagliandi necessari stabiliti per legge. Quindi oggi il quadro esigenziale è molto più ampio. Abbiamo un incontro con il soggetto attuatore dell'intervento che è tua, la società di trasporto regionale abruzzese e siamo in attesa degli esiti per capire esattamente che cosa potremo fare. Nel frattempo però ricordo a tutti gli utenti del terminal che si può parcheggiare gratuitamente e che ci sono delle navette che gratuitamente dal terminal toccano i punti più importanti del centro cittadino. Adesso avendo ricostituito la giunta faremo anche un incontro per stabilire se ci sarà la necessità di incrementare la frequenza delle navette considerando anche che proprio in questi giorni ci sono stati consegnati ulteriori due autobus elettrici che potremo mettere a disposizione per questa necessità.